Per l'anorare come avvocato in Inghilterra non è necessario conseguire la laurea in giurisprudenza nel Regno Unito. Lo sapevi vero? Sigla! Il primo passo per entrare a far parte di uno studio legale britannico prevede l'essere in possesso di una laurea triennale di qualsiasi tipo, conseguita in una qualsiasi università della comunità europea. Il secondo passo prevede l'iscrizione al Graduate Diploma in Law, GDL, un corso della durata di nove mesi, da gennaio a settembre o da settembre a giugno, che fornisce le basi del diritto inglese. A Londra le istituzioni più conosciute sono il College of Law e il BBP Law School. Una volta conseguito il GDL, uno studente europeo si classifica a livello giuridico nella stessa posizione di chi si è laureato in giurisprudenza in Inghilterra e può decidere quindi se intraprendere la carriera di barrister o di sollicitor. I barrister discutono i casi in tribunale, mentre i sollicitor preparano la causa insieme ai clienti e poi passano la documentazione ai barrister per la discussione. In ambe due casi, per ottenere la qualifica è necessario seguire alcuni percorsi che ora ti spiego. La carriera di sollicitor comincia con il Legal Practice Course, LPC, un corso di nove mesi diviso in più prove, al termine del quale è possibile iniziare a lavorare per due anni come trainee sollicitor. Alla decadenza di due anni di praticantato si è avvocati a tutti gli effetti. La carriera come barrister invece comincia con il Bar Professional Training Course, BPPC, al termine del quale avviene il Call to the Bar. Gli studi legali inglesi o i chamber di barrister, per chi riesca a farsi assumere prima o durante il GDL, finanzieranno le spese dei corsi di abilitazione e proveneranno anche ad uno stipendio mensile. Una volta conseguito il titolo di sollicitor di barrister nel Regno Unito, si ha la possibilità di convertire il titolo anche in Italia. Le strade possibili sono due e le procedure sono descritte nell'articolo del blog di Living London Way. Troverai il link in descrizione. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se stai guardando questo video su YouTube, oppure se lo stai guardando da Facebook, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto Mostra per prima. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciaoone!